ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati sul mio canale mi sa che per il momento ci spostiamo qui non dico in pianta stabile ma quasi perché lì dietro è decisamente troppo buio e vorrei evitare l'uso della ring light per quanto possibile perché non mi piace l'aria un po artificiale che dà al video quindi per il momento provo a mettermi qui ogni volta che la giornata è così vigiosa da impedirmi di girare nel solito posto e vediamo come va dunque sono stata taggata da monia del canale hobbit di biblioteca per un book tag molto molto carino vi lascio qui sotto anche il riferimento del book tag originale monia mi ha taggata per questo book tag libri che fanno venire voglia di quindi ci sono una serie di azioni e raccontiamo un po il libro corrispondente io in alcuni casi ho più di una risposta però insomma appunto il libro che ci ha fatto venire voglia di quella cosa lì comincio subito perché si tratta di 11 titoli vi metto tutte le copertine qui per comodità come sempre perché li ho letti in formati diversi o magari non sono più nella mia libreria e cominciamo un libro che ti ha fatto venire voglia di dormire io qui devo dire anche se non è oggettivamente che mi abbia fatto venire voglia di dormire ma che mi ha un tantino annoiata soprattutto rispetto a quello che lasciava presagire la trama del libro è stato le mezze verità di elisabeth jane haward tante persone mi hanno detto che non è rappresentativo del suo stile non è assolutamente rappresentativo di quello che poi per esempio la saga dei casalè può offrire e infatti io non mi sono lasciata scoraggiare da questo titolo rispetto all'autrice io continuerò sicuramente a leggere l'autrice però non è stato un inizio folgorante mettiamola così soprattutto perché nelle mezze verità si lascia un po intendere dalla trama che ci siano tutta una serie di segreti e misteri legati ai personaggi del racconto che in realtà non non è che siano poi così determinanti nel corso appunto del racconto c'è una coppia non più giovane che si sposa in seconde nozze e seguiamo sia il loro matrimonio che ha dei tratti un po inquietanti diciamo ma anche molto noiosi diciamo anche questo sia le vite dei rispettivi figli appunto sono tre figli e appunto seguiamo anche le vite dei figli di questa coppia non più giovane onestamente dalle premesse dalla trama mi sarei aspettata un qualcosa di un pochino più sostanzioso e anche un po più di tensione rispetto a questi ipotetici segreti e queste cose non dette quindi ecco mi ha fatto venire un po voglia di dormire perché io andavo avanti nella speranza di una qualche non dico rivelazione però sicuramente uno spiraglio all'interno delle vite di questi personaggi e non c'è stato non è stato così noioso che io abbia avuto voglia di abbandonarlo però quando lo leggevo sentivo un po questa fatica dell'andare avanti senza che succedesse davvero niente di determinante poi la seconda domanda è un libro che ti ha fatto venire voglia di ridere questo ogni tanto lo cito ma perché non ne sono mai stanca diciamo ed è che dio perdona a tutti di pif questo è un libro veramente che in alcuni momenti mi ha fatta ridere poi io l'ho dico sempre la concezione di umorismo in letteratura in generale comunque la concezione di umorismo è profondamente personale quindi quello che ha fatto ridere me e mi è capitato spesso che libri che hanno fatto ridere altre persone a me proprio niente è una concezione appunto molto personale ancora di più in letteratura però è un libro che a me ha regalato oltre che tante riflessioni anche proprio dei momenti di risate di gusto quindi è quello che mi viene sempre in mente quando qualcuno dice che vorrebbe un libro divertente perché secondo me non è divertente fine a se stesso fa riflettere molto però anche questi momenti proprio godibilissimi e divertenti domanda numero 3 un libro che ti ha fatto venire voglia di fare l'amore allora io qui ne ho scelti due uno più per l'aspetto un po non so come dire pruriginoso della questione l'altro per l'aspetto più sentimentale passionale in generale l'idea che un libro ti faccia venire voglia di fare l'amore mi non ne sono convintissima ma sicuramente ci sono dei libri che hanno dei passaggi o dei momenti che ti fanno bene voglia di stare con la persona che ami vicina alla persona che ami insomma mettiamola come volete quello più pruriginoso è dove sei mondo bello di Sally Rooney che secondo me ha dei momenti insomma io non ricordo se Sally Rooney fosse stata così diciamo tra virgolette esplicita nelle scene di sesso anche di persone normali e parlarne tra amici perché non ho ricordi molto vividi di questo tipo di scene di intimità però devo dire che in dove sei mondo bello ci sono quelle classiche scene che se sei sui mezzi pubblici ti guardi un attimo intorno per dire si staranno accorgendo di cosa sto leggendo cioè ci sono delle scene un pochettino più vivide da questo punto di vista del racconto dell'intimità poi io non leggo libri spicy non sono abituata a questo tipo di cose quindi mi baso proprio sulla normale narrativa che leggo e quando insomma c'è una scena di questo tipo invece quella proprio dal punto di vista di sentimento e di passione è la canzone di Achille perché io mi ricordo che lì ci sono delle scene proprio in cui non è solo la mera descrizione del momento di intimità ma proprio c'è una passione travolgente e quello mi fa effettivamente mi colpisce ecco molto più della singola scena magari un pochettino più spinta raccontata nel contesto di una relazione ecco quando invece si racconta quel tipo di passione proprio travolgente mi colpisce mi tocca di più rispetto appunto alla scena singola domanda numero quattro un libro che ti ha fatto venire voglia di piangere ma non solo venire voglia di piangere un libro che mi ha fatto piangere non entro nel dettaglio del perché ma è stato Lonson Dove Lonson Dove secondo me soddisfa tutta questa lista e anche di più perché è un libro in cui c'è tutto e quindi fa venire voglia di avventura fa venire voglia di innamorarsi fa venire voglia di piangere insomma c'è tanto in quel libro però devo dire che almeno nell'ultimo anno è veramente uno di quei libri che mi ha insomma mi ha mi ha fatta piangere diciamolo non diciamo perché per come fosse anche solo perché quando finisce finisce un viaggio pazzesco è un libro che a me ha fatto piangere mi ha veramente suscitato tanti tanti sentimenti diversi però c'è anche quello insomma del della tristezza del pianto domanda numero cinque è un libro che mi ha fatto venire voglia di riflettere e qui ne ho inseriti due dunque da un lato ho messo un libro di narrativa dall'altro ho messo un libro di saggistica il libro di narrativa che mi ha fatto riflettere è stato le ricette della signora tocue mi ha fatto riflettere per due motivi il primo è che mi sono chiesta perché venga definito da tanti un libro coccola perché non si parli proprio dell'aspetto più profondo e anche più doloroso di questo libro quindi da un lato mi ha fatto riflettere sul perché questo libro venga un po' secondo me sottovalutato nei suoi aspetti più forti dei temi che tratta ma soprattutto mi ha fatto riflettere per i temi che tratta soprattutto per quanto riguarda insomma il tema della malattia e della conseguente immagine che gli altri hanno di noi in base al nostro stato di salute ecco mettiamola così perché non voglio entrare troppo nel dettaglio ma c'è proprio un aspetto molto forte di accettazione e rifiuto della malattia altrui e di come vediamo gli altri in base al loro stato di salute e secondo me è una riflessione molto molto forte mi dispiace appunto che se ne parli come di un libro così grazioso e tenerello quando secondo me in realtà c'è veramente molto molto di più no in realtà qui ne ho addirittura tre due di narrativa uno di saggistica l'altro titolo di narrativa è stato fame d'aria anche qui in un modo diverso ma mi ha fatto riflettere sulla malattia e su ciò che viene in qualche modo sempre comunicato quando si parla di famiglie in cui c'è un figlio malato quindi questa questo mito del genitore eroe questo mito del genitore instancabile dell'amore incondizionato del della forza che tu devi avere per portare avanti una situazione del genere fame d'aria ti fa riflettere proprio sul lato opposto sul genitore stanco sul genitore arrabbiato sul genitore che non ce la fa più ed è stato un libro molto forte che ho molto impresso nella mente perché rovescia tutti quegli stereotipi che abbiamo rispetto alla genitorialità e appunto alle famiglie in cui c'è un figlio malato quindi l'ho amato molto anche se è un libro che veramente fa soffrire molto proprio perché racconta un punto di vista completamente diverso sulla genitorialità e proprio su questo tipo di sentimenti che dovrebbero essere taciuti e invece esistono e ci sono ed è giusto parlarne concludo invece con il saggio che è sovietistan di erika fatland di questo dobbiamo ancora parlarvene perché stiamo raccogliendo un po di letture condivise io e claudia ma è un libro che mi ha fatto riflettere tantissimo sul privilegio del nascere in un certo posto del mondo rispetto ad un altro è un libro che mi ha veramente fornito tantissimi spunti soprattutto per quanto riguarda la condizione femminile ma non solo ma soprattutto sulla condizione femminile e su come l'essere nate in questo caso in un certo posto del mondo fa tutta la differenza rispetto alla nostra autonomia la nostra possibilità di disporre della nostra vita come desideriamo e è stato molto difficile da digerire soprattutto per questo aspetto la domanda numero 6 è un libro che ti ha fatto venire voglia di viaggiare e in realtà io qui cito non un libro che mi abbia fatto venire voglia di viaggiare perché si parlava di viaggi ma che mi ha fatto venire voglia di visitare un determinato posto e sono assolutamente i libri di Daphne du Maurier con la cornovaglia in effetti io qui ho proprio da qualche parte si qui un libro di Daphne du Maurier che è The Rebecca Notebook che ho comprato al Jamaica Inn quando sono stata in cornovaglia perché la cornovaglia è stato un viaggio interamente desiderato e voluto per i libri di Daphne du Maurier quindi non si tratta di libri che mi hanno fatto venire voglia di viaggiare in senso assoluto quanto più libri che mi hanno raccontato in maniera talmente vivida un'ambientazione che ho voluto visitarla anche dal vivo quindi ho preferito contestualizzare così questa domanda poi la domanda numero 7 è un libro che ti ha fatto venire voglia di avere un amico allora per fortuna di amici nella vita reale ne ho e forse negli ultimi anni questo è un ambito che mi ha riservato delle grandi sorprese nel senso che io ho sempre pensato che le vere amicizie fossero quelle che mi portavo dietro da una vita e invece mi sono resa conto che quelle amicizie possono allentarsi proprio perché nel frattempo si è cambiati e cambiate ed è naturale e fisiologico che quel tipo di amicizia cambi e magari anche che venga meno o si allenti talmente tanto da perdere l'importanza che aveva mentre sono stata profondamente sorpresa dalle amicizie fatte in età adulta in particolare negli ultimi anni perché si sono rivelate quelle che poi non solo nel momento del bisogno ma in generale sono state importantissime in questi ultimi anni quindi devo dire di essere molto fortunata da questo punto di vista ma il libro che mi ha fatto ripensare rivalutare e anche riflettere su l'amicizia in età adulta e non solo è stato fellowship point fellowship point secondo me è un libro che parla di amicizia in maniera incredibile parla di quel tipo di rapporto che diventa quasi sorellanza e che attraversa tanti anni e tanti eventi nelle vite delle due protagoniste ma che in qualche modo rimane sempre solido e anche nei momenti in cui rischia di sfilacciarsi c'è sempre qualcosa che lo fa tornare quindi è un libro che ho amato molto proprio per il modo in cui parla di amicizia e soprattutto di amicizia in età adulta che insomma è importante mi vengono in mente ovviamente tantissimi libri in cui le amicizie nascono in età infanzia adolescenza ma l'idea di un'amicizia tra due donne adulte e poi anziane secondo me è anche molto bella domanda numero 8 è un libro che ti ha fatto venire voglia di scrivere io non sono una persona che scrive se non per journaling riflessioni di qualche tipo ma devo dire che quel che si vede da qui è stato il libro che mi ha fatto venire voglia di scrivere ma non di scrivere in generale ma di saper scrivere così è un libro che utilizza così tante immagini creative così tanta immaginazione così tanta poesia proprio nel modo in cui è scritto che mi ha fatto desiderare di essere in grado di scrivere una cosa simile non so come dire non mi ha fatto desiderare in generale di scrivere proprio di saper scrivere così perché mi ha aperto un mondo sul su tutti i modi in cui si può essere appunto creativi e poetici scrivendo e da quel punto di vista mi è piaciuto tantissimo domanda numero 9 è il libro che ti ha fatto venire voglia di urlare dalla paura io non leggo mai libri di per sé spaventosi horror o spinti in quel senso lì se leggo libri gotici sono sempre libri un po sottili ed eleganti nel modo in cui sono inquietanti anche la saga di black water che per ora ho letto per metà che viene definita horror secondo me a parte qualche momento che però non ho trovato particolarmente spaventoso non è di per sé una saga horror voglio girare questa domanda in modo diverso e dirò il racconto dell'ancella non perché faccia paura nel senso di horror ma perché fa paura a quello che racconta perché è assolutamente non dico realistico non dico verosimile ma non è poi così lontano da noi e quello che mi ha fatto molta paura in quel libro è quando si racconta delle prime avvisaglie di quello che sarebbe successo e si pensa che non sono cose poi così strane e lontane da noi quindi girerò questa domanda con un libro che mi ha fatto paura perché quello che racconta è spaventoso di per sé ma non così lontano da noi domanda numero 10 il libro che ti ha fatto venire voglia di prendere a sberle l'autore allora in questo caso purtroppo è un'autrice ed è Letizia Colombani ed è la treccia voi sapete che questo è stato uno dei libri più deludenti per me di quest'anno ed era un libro su cui non riponevo alcuna aspettativa quindi non posso dire che sia perché mi aspettavo chissà cosa e mi ha delusa no è proprio un libro che secondo me sminuisce le tre protagoniste che si che si proponeva di esaltare non so come dire è un libro che svilisce talmente tanto i sentimenti e le aspirazioni di queste donne di cui parla da veramente avermi fatta molto arrabbiare in alcuni momenti non è solo perché la scrittura è semplice non è solo perché il racconto è super prevedibile è proprio perché si vuole parlare di indipendenza e affermazione e non ce la si fa ecco poi uno non arriva a dire che vorrebbe prendere a schiaffi la scrittrice per carità però è un libro che ho finito solo per vedere dove andava a parare e per vedere se avevo capito effettivamente dall'inizio che cosa sarebbe stato e dall'altro lato è un libro che veramente mi ha sconvolta per la semplicità della scrittura e di come racconta le cose e di come banalizza tutto quindi niente non ce n'è domanda numero 11 che è l'ultima è un libro che ti ha fatto venire voglia di regalarlo a tutti ed è oggettivamente un libro che ho regalato a più persone nel corso degli anni e che ancora mi viene voglia di regalare per due motivi primo perché secondo me non è abbastanza conosciuto e secondo perché se si amano i libri è un ottimo libro ed è non avere paura dei libri appunto di cristian mascheroni questo è un titolo che ho citato in vari video e che in qualche modo secondo me parla così tanto di amore per i libri e di storie familiari che in qualche modo è il libro perfetto da regalare a chi ama i libri e ha un certo tipo di sensibilità comunque quindi è un libro che io ho regalato già almeno a due o tre persone nel corso degli anni che ho amato moltissimo e che proprio per il fatto che non è così conosciuto secondo me resta uno splendido regalo a chi ama i libri queste erano le mie risposte per libri che fanno venire voglia di l'ultima domanda appunto tagga altri canali io ne taggo tre perché ho perso un po il conto di chi ha realizzato questo tag e chi no quindi nel dubbio metto queste tre persone che sono claudia del canale elise legge elise viaggia jessica lettrice tra le ombre e miria del canale miria the book hunter e spero anche che nessuna delle tre l'abbia già realizzato e spero di non essermelo perso per strada io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi come sempre se volete rispondere a qualche domanda qui sotto lo spazio è tutto vostro grazie ancora monia per il tag io vi ringrazio per il vostro tempo il vostro affetto il vostro supporto e noi se vi va ci vediamo al prossimo video ciao ciao